Movimento 5 Stelle e PD senza pudore. Nella giunta per la immunità del Senato la maggioranza di governo chiede il rinvio del voto su Salvini, che andrebbe secondo loro processato, per non aver fatto sbarcare immediatamente gli immigrati della nave Gregoretti quando era ministro degli interni. Chiedono il rinvio di questo voto a dopo le elezioni di Calabria ed Emilia Romagna. Perché? Perché il PD e il Movimento 5 Stelle sanno benissimo che la stragrande maggioranza degli italiani chiede di difendere i confini di questa nazione. Sanno benissimo che la stragrande maggioranza degli italiani ritiene che Salvini abbia fatto il suo lavoro impedendo a questi immigrati clandestini di sbarcare, ma lo vogliono processare lo stesso e non se ne vogliono assumere la responsabilità. Vigliacchi! Vigliacchi! Assumetevi la responsabilità delle vostre scelte. Fate il voto prima delle elezioni di Calabria e Emilia Romagna e poi fatevi giudicare dagli italiani che votano.